ciao a tutti da me e da pomettino molto bene allora parto già col dire prima di pescare prima di sapere prima di tutto che vorrei fare una crescione petri senza poco che non faccio il petri non so oggi ci voglio fare i petri non so vediamo se il fogliettino me lo permette oppure se devo fare i rischiotti vari quanti ne sono usciti sono usciti dove pescarlo io io lo voglio pescare io lo voglio pescare in mano qualcosa ok è uno vediamo stella junior o finalmente è uscita continuiamo a dire non esce mai non esce mai non esce mai fucsia e fucsia si fucseggia oggi quindi adesso vediamo se fare il petri o no no bo vado a prenderlo molto bene molto bene allora ecco qui stella con pomettino vicino molto bene che sciccherina che sciccherina che sciccherino allora non ho ben capito che cavolo di colore sia la coroncina comunque a il fucsia e delle striscioline di rosa fucsia del vestito calzine su rosa scarpe fucsia con oro e bianco e poi alla coroncina che a loro il bianco cos'è questa trasparenza non so cosa sia teniamolo per bianco perché non ne ho la più pallida che colore sia cioè capì 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 quindi sinceramente non sono non so che cavolo fare adesso ci penso voi molto probabilmente lo sapete dalla dalla copertina invece non ho ancora la più pallida idea quindi adesso cerco un attimo di capire perché di bianco la effettivamente non ne ha tanto è molto fucsia fucserosa boh non lo so non lo so non lo so non lo so allora ho scelto tutto e oggi abbiamo un grandissimo ritorno un grandissimo ritorno il cucchiaino mini 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 chi è che se lo ricorda chi è che se lo ricorda questo bellissimo cucchiaino olè allora perché mi serve il cucchiaino adesso con calma ve lo dico ho deciso di fare questo cuore ok perché da un po che non lo utilizziamo mettendoci dentro la texture tipo così ecco perché è molto bello e poi adesso vi spiego un paio i colori nel colore della coroncina secondo me questo ci può stare questo pigmento qua perlato che punta sul purple quindi ci sta con i colori e questo è per questo ecco poi abbiamo loro che andrò a mettere dentro fra qualche goccina ok ad alcol quindi top 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 poi farò il bianco poi ho preso questo fucsia in polvere molto bene e poi questo fucsia che è sempre in polvere però è abbastanza scintillante è bellissimo quindi top non vado a fare il rosa perché facendo il bianco e facendolo fucsia e mescolando ci dovrebbero dare un po l'effetto rosino e poi lei essendo che tutta impagliettata glitterata così ho pensato di prendere questi glitter ok questi qua fucsia e magari di metterli dentro così proprio a caso non troppi solamente per illuminare un po non so ancora bene dove come metterli però lei tutta impagliettata e a ciò pensato perfetto quindi adesso vado a preparare la resina preparo i colori e poi cominciamo a vedere un po cosa comunque cosa molto bene ok allora ho messo tastato bene la texture e fin qui ci siamo che non so come l'ho messa molto giusto chi se ne frega così è così rimane allora qui abbiamo il bianco molto bene qui abbiamo il fucsia molto bene qui abbiamo la polvere olografica vedete aspettate che magari mette a fuoco si avvicina molto al di riflesso che non mette a fuoco vabbè avete capito poi altro fucsia molto bene poi qui ho i glitter che butterò dentro a casissimo e poi qui abbiamo loro che andiamo un po shakerare mentre prendo questo che sbatto dappertutto per prima cosa andiamo a sfruzzare l'alcol soprattutto sui perché so tanto che spruzzo sto shakerando loro vediamo un po molto 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 bene prima di mettere loro io partirei subito con una sgommata di buxia perfetto che questi hanno anche i grumini così e ora andiamo di oro lei di oro ha proprio decorazioni molto piccole quindi direi che secondo me così può passare un goccino in mezzo figuratevi se io resisto allora a spruzziamo per farlo vagabondare un po poi adesso andiamo a mettere cos'è questo il bianco very well guardate come se anche bello è così molto molto bello poi mettiamo questo fucsia o che siccherino questo fucsia molto bene ora andiamo di glitter house pochi pochi poi farli un po più dove c'è la texture che magari brilla un po di più e poi un titin in che si che vanno un po adesso io metto la legenda quindi se la viaggeranno un po come vorranno loro ma non ci interessa adesso vado a mettere questo pigmento qui così allora io direi che con bianco bianchino e bianchetto abbiamo già dato quindi adesso io direi che si deve finire con il fucsia senza aggiungere altri colori direi che se la texture abbastanza dentro direi che questa resina qua me la tengo per fare qualcos'altro questo oro qua così selvaggio un punto solo apriamolo un po iglizzi di rispostiamo tanto poi fanno il cavolo che vogliono molto bene diamo una spruzzatina e ora con la resina avanzata ho preso queste stelline perché lei si chiama stella posso non fare le stelle ora vediamo quante ne riesco a fare ne ho preso tre vediamo cosa riesco a fare che colore riusciamo a fare vorrei metterci un po di tutto come state vedendo però il fucs è quasi finito mi è rimasta una sbraga del mezzo di bianco ovviamente il fucsiano quindi probabilmente le altre stelle saranno bianche ok questa l'abbiamo fatta via prendiamone un'altra e facciamola molto molto bene non so se poi loro si vedrà quindi lo metto qua perfetto poi andiamo di fucsia speriamo che si vedo ok perché qua ovviamente ho fatto le cose con le ciapette quindi si vedrà tutto tutto il bianco ho ancora un po di questo che è abbastanza grumoso mettiamo i glitter speriamo che non venga una cacatina per colpa dei glitter probabilmente si però sono qui l'ho voluto mettere mettiamoli perfetto adesso mi ha lanciato ancora un po di goccina nella resina no un goccino di resina nei bicchieri e farò questa stellina la farò io perché dovrò ravanare per bene nei bicchieri e ci vuole un bel po di tempo quindi vi spoiler solo questa cosa molto bene molto molto bene la faccia poi quando è tutto pronto scopriamo scopriamo anche cosa farà la texture se se la viaggia o se non se la viaggia molto molto bene molto bene allora ecco qua stella la tartaruga e pomettino allora devo essere sincera non mi ricordo qual è l'ultima stella che ho fatto allora vedendole così io direi questa vedendola così ma non lo so allora da cosa partiamo? partiamo subito dalle stelle così ci lasciamo alla fine il cuore e la texture però come si può ben vedere è salita salita molto molto bene con questo sottofondo di campane facciamo la prima stella per stella junior molto bene oh che bello qui ma è molto molto carina ci sono i grumini ok si vede l'oro si vede il bianco il fucsia ha fatto questa cosa ok c'è un glitter solo che si vede ma c'è quel pigmento quello purple per farvi capire che ha lasciato tutta questa roba qua scintillante molto molto carina poi vediamo quest'altra qua c'è un pochino di fucsia si si nota si nota un po' di più anche qua si vede solamente un glitter ma come è possibile sono tutti saliti però è molto molto carina ok e poi adesso vediamo questa per fare le stelle effettivamente erano rimasti i colori quelli più chiari quindi il bianco e quell'altro quindi lo sapevamo oh qua ci sono un sacco di glitter almeno si vede un po' di fucsia sarebbe stato meglio metterli magari un po' più su qua però ah si questa è quella che ho fatto alla fine molto molto bella vediamole tutte le cine quella che mi piace di più è questa questa qua che si vede un po' di più il fucsia però devo dire che sono molto molto belle tutte e tre mi piacciono molto tutte e tre mettiamole qui vicino a stella e adesso vediamo il cuoricione qua speriamo che non mi dia troppo lavoro ah non sento nemmeno porcaccia la pupazza giriamo oh allora il fucsia è veramente bellissimo però come si può ben vedere è passata tutta la resina quindi adesso con calma andrò a tagliuzzarla via ok mi ha fatto il buco qua il buco qua e il buco qui però devo dire che è molto molto bella qua mi piace molto molto l'effetto si vede l'oro si vedono i colori più chiari qua luccicano quei glitter vado a tagliuzzare ok allora ce l'ho fatta eccola qui eccola qui la texture molto bene adesso andiamo a levarla e vediamo soprattutto quanta texture verrà via vedo già brillare guardate che chiccherì molto bene wow è bellissima poi col fatto che la texture si è alzata ha dato questo effetto qua ancora un po' più sulla trasparenza vedete wow vedete che metto tutta la texture è veramente qualcosa di incredibilmente bello vediamolo vicino a lei ci sono le sfumature sia delle scarpe sia dei capelli sia del vestito di tutto è tutto è proprio perfettamente perfetto c'è una parola più perfetta di dire perfettamente perfetto per lei che chiccherì che chiccherì mettiamola qui guardate guardate che dov'è ok oh per non fare troppo luce oh che chiccherì bellissima 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 devo dire che sono veramente molto molto soddisfatta infatti mi vedete i glitter ci stanno anche molto danno anche un po' più di luce quindi top 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 veramente veramente ma veramente veramente bella ci sta perfetta quindi ora ho qua la mia agendina quindi abbassiamo e finalmente finalmente facciamo la X a Stella Junior a resina così questa chiccherina di pagina ora ha tutte le X almeno su tutte le righe poi ovviamente mancano ancora cose però pian piano pian piano ci siamo molto molto bene quindi finalmente finalmente rimettiamo tutto su Pomettino tu sei soddisfatto ti piace? ti piacciono? sì molto molto bene ti ringrazio Pomettino ok quindi io vi ricordo Instagram link Amazon e Patreon giornalinfobox mi raccomando ci sono tutti i link fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate e niente Pomettino è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao